Come nell'ultima gara ufficiale della passata stagione finale dei play-off, l'Alma Juventus fano viola ancora il Bianchelli battendo 1-0 la Vigor Senigallia che deve arrendersi alla sconfitta e alla conseguente eliminazione dalla Coppa Italia. I ragazzi di Scorsini dimenticano quindi le turbulenze societarie che hanno accompagnato i Granata in questa estate e con una gara di grande sacrificio e applicazione tattica riescono ad avere la meglio su una Vigor che ha controllato il gioco per buona parte dell'incontro senza però riuscire a trovare la stessa incisività a cui aveva abituato nella passata stagione i propri tifosi. Alla vigilia del match Mr. Clementi perde Sarti e Gambini mentre Mr. Scorsini propone insieme ai nuovi arrivi Guerriere e Gonzales una formazione con tanti giovani guidati da capitano urbinati in mezzo al campo e il solo Tenkorang con caratteristiche davvero attaccante, dirige Rashed di Imola. La Vigor prende subito in mano il comando dell'operazione in mediana ma l'alma resta attenta e compatta a lasciare pochi varchi e dopo il pallonetto tentato da Keriota dal vertice destro dell'area al settimo che si spegne di poco sul fondo per annotare la prima occasione bisogna arrivare a metà tempo quando Derrico pesca in area con una pennellata pesa resi che sotto misura non trova di testa la deviazione vincente. Insiste la formazione rosso blu che al ventiquattresimo trova un barco sulla destra ma Keriota sceglie la soluzione personale senza inquadrare la porta. Dopo il necessario break a metà tempo per il gran caldo alla ripresa del gioco l'alma trova il modo di affacciarsi per la prima volta in avanti con la stoccata alla mezz'ora di Zanni a posizione centrale facile però la parata di Alessandroni. Sul ribaltamento di fronte pesa resi e casa grande arrivano in ritardo su un altro bell'invito di Derrico mentre al trentaseiesimo l'occasione d'oro per il vantaggio rosso blu capita proprio al fantasista della squadra di Clementi che liberato da un filtrante di Keriota si ritrova solo davanti a Guerrieri bravo a respingere il tocco verso la porta e l'attaccante. L'alma torna a farsi vive in avanti al quarantunesimo quando su corner di Gonzales Surbinati stacca più in alto di tutti e schiaccia Alessandrini blocca a terra. La prima frazione si chiude con un'altra iniziativa di Keriota il cui tentativo finale però finisce lontano dai pali di Guerrieri. Dopo l'intervallo Clementi lascia precauzionalmente pesa resi negli spogliatoi per un fastidio al polpaccio inserendo Mancini alla prima azione la Vigor va di nuovo vicino al vantaggio. Bella combinazione sulla sinistra che porta Bartolini al cross dal fondo. Baldini arriva in corsa eppure in precario equilibrio riesce a calciare col destro mandando la sfera a scheggiare l'incrocio. Dall'altra parte anche i Granata trovano subito il modo di rendersi pericolosi. Prima Tencorang vince il duello di forza con Schaeffer sul suo tiro però Alessandroni manda in angolo. Sul successivo tiro dalla bandierina l'estremo difensore Rosso Blu resta concentrato e allontana il pallone calciato da Gonzales indirizzato direttamente in porta. La fiammata di emozioni di inizio ripresa si spegne velocemente con le due squadre che lottano con grande agonismo tra le due tre quarti senza però riuscire negli ultimi venti metri a creare pericoli ai due portieri. Clementi prova a inserire forze fresche mentre Scorsini attende di arrivare al ridosso della mezz'ora per operare i primi cambi ed è proprio uno dei nuovi entrati a pescare il jolly che indirizza il match a favore di Granata a sette minuti al novantesimo. Gonzales dalla bandierina offre un pallone corto a Badan in campo da poco più di cinque minuti che dal lato corto di sinistra calcia con forza. Il pallone deviato inganna Alessandroni e finisce in rete per l'1-0 che fa esultare l'alma. La Vigor non ci sta e si riversa in avanti cercando di assediare l'area avversaria senza però riuscire mai a creare occasioni da gol nitide e l'unico intervento di Guerrieri arriva nei primi istanti del recupero quando Keriota si accentra da destra e libera il sinistro, angolato ma troppo debole per spaventare l'esperto portiere Granata con l'alma che resiste fino al triplice fischio finale portando a casa un successo che oltre al passaggio del turno può dare ai Granata il giusto entusiasmo per affrontare il difficile campionato alle Forte mentre la Vigor deve prontamente ritrovare la buona vena della scorsa stagione per recitare di nuovo un ruolo da protagonista. Una partita complicata perché il Fano ha chiuso ogni spazio e poi è riuscito a trovare la vittoria con una conclusione che ha un po' sorpreso il vostro portiere. Il gol è nato da un angolo e una deviazione del nostro uomo sul primo palo quindi il portiere non ha assolutamente colpe. È una partita molto difficile per noi perché sì è vero che il Fano comunque aveva quel tipo di atteggiamento ma non abbiamo fatto noi sicuramente la nostra miglior partita. Abbiamo perso dal mio punto di vista senza fare la prestazione quindi è il peggior modo per perdere. Mi è piaciuta la Vigor un po' nel primo tempo dove è stata diverse volte comunque un po' più pericolosa però per il resto della gara non abbiamo fatto sicuramente meglio dei nostri avversari. Mister Scorsini un'alma compatta, agguerrita che è riuscita a fermare la vigora e trovare la vittoria nel finale. Sì, diciamo che sapevo benissimo che per noi dopo un mese e mezzo di lavoro molto molto difficile e complicato questo era il primo vero banco di prova. Conosco le qualità del mister e conosco questa splendida ormai realtà che a mio vedere ha fatto già qualcosa di eccezionale l'anno scorso e la indico come una delle candidate all'otto delle pretendenti di questo girone difficilissimo. Quindi per noi era un test probante, era un test durissimo. Sapevo benissimo che l'unico metro e l'unica medicina per poter uscire a testa alta era quella di giocare la partita in un certo modo. Conosco ormai bene la Vigor e poi l'atteggiamento, come dice lei, l'essere compatti. Io penso che a giocatori fortissimi come a la Vigor abbiamo concesso un'occasione, un'occasione e mezza in tutta la partita pulita quindi penso che i miei ragazzi hanno fatto una grande partita.